Cosa? Abbiamo fatto un sacco di banqueta e abrizzano anche abri Noi che muoizauri forse da essere la segale zauria Dove il movimento ottivo è stato conosciuto il primo è stato qui viene come dire Scusate ma molto poeticamente voto una tropella di salato Vai non sarà Scusi Comunque il salame è proprio un po' di Vabbè dai faccio il mio Ma la terza è un po' di Dice tre pelle Non amo che hai fatto male Ciao 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 Non amo che hai fatto male perché ti ti salami mi hai detto la mia vita Spero di fermarti adesso Buongiorno Buongiorno Ragazzi stiamo a pensare una cosa politicamente corretta Nooo Assolutamente no Ma che grazie per le idee Grazie 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 Grazie